Scacco al clan De Luca Bossa, il comando provinciale carabinieri di Napoli e la squadra mobile della questura di Napoli hanno eseguito due fermi disposti dalla direzione distrettuale antimafia nei confronti di sette persone legate al clan camorristico De Luca Bossa. Tutti sono indiziati del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso a fine di agevolare l'organizzazione di appartenenza. I due provvedimenti riguardano rispettivamente un'estorsione commessa nell'ambito della gestione delle abitazioni di edilizia popolare e un tentativo di estorsione continuata nei confronti di un imprenditore. In particolare il primo decreto di fermo eseguito dalla squadra mobile di Napoli è stato emesso nei confronti di tre indagati che hanno richiesto ad una donna la somma di denaro di 5.000 euro quale prezzo per conservare il possesso dell'alloggio popolare nei quartieri Ponticelli in cui viveva con il figlio minore. A seguito delle minacce ricevute non disponendo della somma di denaro la vittima è stata costretta ad allontanarsi per evitare ulteriori ritorsioni. Il secondo provvedimento eseguito dalla compagnia dei carabinieri riditore del greco e dalla tenenza di Cercola è stato emesso nei confronti di quattro indagati e riguarda un tentativo di estorsione continuato commesso nei confronti di un imprenditore che dopo aver subito gravi danni alla propria concessionaria di autoletture a causa dell'esplosione di un ordigno artigianale ha ricevuto una richiesta etorsiva di 50.000 euro.